Buongiorno ragazze e buongiorno ragazzi e bentornati alla nostra rubrica di consigli di lettura. Il libro che voglio consigliarvi oggi fa parte della collana narrative di Mondadori scuola, una collana nata per incoraggiare la lettura di romanzi integrali in classe. Questo libro è L'equazione impossibile del destino di Elisa Puricelli Guerra. La protagonista di questa storia è Edsel, una ragazza orfana rimasta sola che viene presa in affido da un signore che la fa accogliere nella sua grande villa ma non si presenta a conoscerla. Edsel dovrà presto inserirsi in una nuova scuola e qui conoscerà Colin, un ragazzo un po' particolare, solitario, isolato, con pochi amici. Tra loro nascerà un'amicizia. Edsel in questo luogo in cui si trova ad abitare inizierà anche a sentire delle voci misteriose che le sembrano provenire da un giardino abbandonato e chiuso da tutti i lati. Per risolvere il mistero di questo giardino Edsel ricorrerà proprio all'aiuto di Colin e l'elemento del tempo sarà un fattore cruciale per svelare questo mistero. Io spero che questa storia possa incuriosirvi e penso che piacerà soprattutto a chi ama le storie con molti elementi di mistero e di suspense e che hanno una componente fantastica. Vi ricordo che in questa edizione troverete degli apparati che vi aiuteranno ad entrare con maggiore profondità nel testo e a diventare lettori più consapevoli anche grazie al confronto con le compagnie e i compagni. Infine che legata a questo titolo c'è una mappa che potete scaricare. Questa mappa vi guiderà a scoprire molte altre storie e adesso non mi resta che augurarvi buona lettura.